con un'altra maglia, puoi raccontare come è andato? Ma io sai che spessissimo dico che alla fine la decisione importante è sempre quella del calciatore e anche in questo caso devo dire che Turamma è stato lui il protagonista dell'arrivo all'Inter perché è stato lui a decidere di venire all'Inter nonostante avesse avuto delle altre offerte e quindi questo depone come la cultura del senso di appartenenza sia garantita da questo punto di vista da decisioni del genere perché evidentemente lui ha ponderato quale poteva essere la società migliore in questo momento della sua carriera, la società che gli dava più spazio cioè tanti valori o considerazioni che io non sappiamo fino in fondo di sicuro credo che il ruolo del papà che è stato un grande giocatore, un grande uomo abbia influito, però devo dire come Turamma ci sono altri casi cioè siamo tornati noi Inter a essere appetibili e devo dire che oggi veramente, oggi nel senso in questo marco di tempo ma nella campagna trasferente per concludersi abbiamo ricevuto tante proposte da tanti giocatori, non solo italiani di venire a giocare con noi significa che l'Inter veramente sta cercando di tornare l'Inter di una volta grazie grazie